Traversone in avanti, attenzione, lascia la palla Palumbo a Gasparri. Attenzione, Castaldo sorpreso, esce forte, rimessa dal fondo. Forse volevano il rigore, giocatori ospiti. Forte ce l'ha con l'avversario perché ha simulato l'atterramento, perché se ne voleva uscire bene l'arbitro, hai avuto una continuita in un calcio d'angolo, perché vuol dire che con il contene piglia la palla, invece la palla non la piazza, se è così vuol dire che la palla non la piazza. C'è un mischio di agrallo di calcio quest'ultimo per il caso? Potrezzare …